ecco un altro video uno bellissimo che vi piacerà tanto e vi lascerà a bocca aperta vi farò vedere il dietro le quinte su teenage mutant ninja tartus back from the sewers per game boy visto che stiamo parlando del gioco tartarughe ninja the kawabanga collection e poi siamo sempre nel covo delle tartarughe iniziamo con il documento di concept che ci sono 42 immagini insomma c'è tutto davvero alcune immagini sono molto belle tutte da vedere purtroppo i soldati ninja ci sono sempre non ci sono sempre nemici e boss ma c'è anche qualcos'altro ora vi farò vedere qualcos'altro se avete pazienza dovete aspettare vi faccio vedere la bozza manuale di istruzioni ricordatevi che io sono sempre un youtuber io faccio solo videogiochi che piacciono a me ora c'è fogli sprite visto con i nomi di tutti i boss del gioco rocksteady bibbop shredder generale poi c'è il corpo android di krang il guerriero di pietra poi shredder può diventare un super shredder poi c'è il corpo androide di krang e per finire gli storyboard concludiamo la recensione con gli storyboard si può anche zoomare ragazzi davvero potete zoomare con l2r2 e fare la panoramica con la levetta analogica destra la cosa importante è attivare le etichette e le didascalie per capire tutto sono troppo belli gli storyboard bene abbiamo finito iscrivetevi al canale e mettete un mi piace condividete il video